Tutto fermo in relazione al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia. Il timore è che con le prossime elezioni amministrative e regionali questa situazione di stallo possa perdurare fino alla fine dell'anno. Un timore che oggi viene manifestato dal Comitato per la Sanità di Sciacca. Nei paesi arabi hanno il Ramadan, noi abbiamo le campagne elettorali durante le quali tutto si paralizza e si ferma. Purtroppo questo ruito selvaggio per cui non si deve fare nulla perché nessuno ne deve ricavare vantaggi provoca questa situazione allucinante perché l'approvazione della rete ospedaliera è il presupposto per poter sbloccare i concorsi. Nel frattempo non facendosi concorsi le precarietà e le provvisorietà di molti incarichi rimangono. Il risultato è quello che vediamo. Siamo come un paese in cui non ci fosse un governo e in cui si insegue l'emergenza e si continua. Le persone che lavorano c'è da chiedersi ma come fanno a lavorare? Eppure lo fanno. Allora secondo me un qualche provvedimento per sbloccare questi concorsi anche se siamo in campagna elettorale mettendo al primo punto all'ordine del giorno i disagi delle persone e le difficoltà che incontrano qualificherebbe questa politica. Temo che continueranno nel triste rituale per cui siccome poi bisognerà attribuirsi i meriti di chi ha sbloccato i concorsi e di chi li promulgherà, prima delle elezioni mi auguro di essere smentito ma temo che prima delle elezioni questi problemi non verranno risolti. In ballo c'è il futuro del Giovanni Paolo II legato alla promessa di una classificazione dell'ospedale come struttura di primo livello ma nel frattempo le criticità del nosocomio non sono state superate anzi sono aumentate. Ragion per cui il comitato ritiene ormai indispensabile un atto ispettivo da parte dell'assessorato alla sanità. Abbiamo già preannunciato nella lettera diretta e direttore dell'ospedale di Sciacca questa richiesta che noi intendiamo fare, una richiesta di intervento ispettivo volto a verificare perché è una vergogna e non c'è altro termine, lo stato degli ascensori. Ma dico, ma veramente si scade a un livello di ridicolo di questo tipo? A quanto pare gli ascensori non sono più oggetto in termini di soluzione del problema di interventi manutentivi perché, ci è stato detto, è assolutamente necessario procedere alla relativa sostituzione per la quale peraltro ci sarebbe una pratica in fase istruttoria per l'intervento finanziario da parte dell'assessore. Allora noi vogliamo dire, ma scusate, ma che cosa aspettate a mandare questi soldi per sostituire gli ascensori? Che qualcuno muoia lì dentro. Tra l'altro non si hanno più notizie del famoso investimento da 4 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ammodernamento della struttura di contrada segnazza la cui gara d'appalto veniva data per imminente già nell'ottobre dello scorso anno. Non arriveranno perché ormai si è convinte che la politica è data unicamente da questo sistema perverso delle annunciazioni, delle affermazioni. Ecco perché noi diciamo che lo strumento inevitabile è quello del Comitato che significa non fermarsi alla protesta, a un giudizio negativo nei confronti della classe politica. Significa anche farsi promotore, partecipare...